La musica ti fa emozionare, anche tanto a volte, ti fa sorridere, ti aumenta il battito, ti regala quel sorriso che a volte la vita toglie. Essa ti tende la mano quando ne hai più bisogno, ti mette una coperta sul cuore quando quest'ultimo sanguina, ti alleggerisce da pensieri e ti rende felice. Questa è la musica per me. Ciao a tutti, benvenuti qui a The Best Talent e abbiamo qui con noi oggi Giulia Vestri. Ciao a tutti. Da dove vieni? Vengo da un piccolo paesino in provincia di Firenze. E come mai hai scoperto questo talent qua giù in Romagna? Sì, allora, mio nonno era romagnolo quindi il mio cuore è qua, anche se io abito vicino a Firenze. E niente, ho conosciuto questo talent perché ho partecipato a San Marino, al Gran Galade Festival. E prima di San Marino ho partecipato a Sanremo Rock e sono arrivata seconda nella sezione trend quest'anno al Teatro Ariston di Sanremo. Che brava, quindi tanta roba. Dalla 100 di Romagnolo abbiamo poco, pochissimo. Una cosa ti volevo chiedere, le aspettative di questo talent? Ma diciamo che la mia intenzione quando canto è cercare di poter arrivare ai cuori di chi mi ascolta, cercando di emozionare. Tutto qua. Bellissimo. Grande aspettative a questo... La musica è sempre stata un mio sogno. Io lavoro in un negozio che si chiama Desigual a Firenze, in centro, però il mio più grande sogno è poter vivere di musica. Ci proviamo. Stringiamo il cuore e andiamo avanti. Ok, e oggi che cosa... facciamo una spoilerata, che cosa ci canterai? Certo, un brano inedito che si chiama Braccio il mondo, è il brano che ho portato a Sanremo Rock e con il quale è arrivato ottavo ad Aria Sanremo nel 2018. Quindi scrivi anche? Io sono anche cantautrice. Questo è un pezzo però di una mia cara amica e niente, canterò questo pezzo suo. In bocca al lupo. Grazie, eh. Grazie Giulia. Grazie a lei. Grazie. Grazie a lei. 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 Grazie a lei.